Alleluia. Signore, noi ti ringraziamo questa mattina, questa mattina perché ci hai fatto lavorare, ti ringraziamo questa sera perché ci fai ascoltare. Abbiamo lavorato in un modo che in un altro, abbiamo speso tanto tempo, e adesso siamo qui in ascolto di te, attraverso questi maestri, perché quando ci annunci una verità, sei sempre tu che parli, fa che con fede noi viviamo questi momenti e prendiamo da te quelle verità che tu ci dai. Signore, ti preghiamo che ci venga trasmessa la verità integra, così come tu ce l'hai, in modo che questi nostri insegnanti, didastri, maggiori, siano il trasmettitore della verità. e noi siamo degli ascoltatori attenti, dei discepoli attenti. la tua verità scende dentro di noi. e muociamo il tuo Santo Spirito, Signore Gesù, perché sia i didastri, sia noi discepoli, possiamo ricevere la verità, e la verità ci possa liberare da ogni errore, che ci possa essere luce nel nostro cammino. Spirito di Dio. Spirito di Dio, 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 Viene di chi, usati, scritto, Dio, scendi su di noi. Dio, scendi su di noi. Dio, scendi su di noi. Vedete, non ho lavorato solo per me, ma per quanti cercano la dottrina. Grazie, Signore Gesù, di queste parole che Tu vai dato in apertura, prima dietro in vitazione e poi subito in apertura. Questo nostro fratello ha lavorato, ma non ha lavorato soltanto per sé, ha lavorato anche per noi. Ed è per questo che noi Ti benediciamo e ci confritoriamo con Lui. Alleluia.